Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di FIFA 15, cioè il primo degli spacchettamenti dell'Ultimi Team, oggi sono Fandaniele, ciao raga E oggi dobbiamo trovare questo tipo qui, che è lui, ma sarà un po' impossibile, tipo Tevez, Liv, Messi, mi sembra un po' probabile, veramente, e oppure questi qua, tra cui un bronzo, un bronzo Bene, questa cosa la stiamo pre-registrando per oggi perché non abbiamo avuto tempo, allora poi dobbiamo aprire questi pacchetti di oro e tre pacchetti di quelli che abbiamo avuto in regalo, euro premio max questi qua Bene, abbiamo trovato Midround, Fax, Così, Domizzi, ma che cazzo? Sì, fortissimo, Doppione, Paffa Non è stato possibile, vabbè sì, quello è, però lo mettiamo dentro, lo mettiamo in vendita, perché fa un po' a cagare Sto l'avendo un po' troppo arrangiato Ok, bene, apriamo gli altri due pacchetti che abbiamo avuto noi Sperando di non trovare centoni scarsoni Sì, allora Carica cazzo Carica, oh, vai, ti trovi a mazar Dai, chi cazzo è, ma fa che Montiero Montiero, ma sarà che ce l'ho già Piatti Piatti, che grande, direttamente Oscar, la pasta o no? Piatti, Oscar, ci Piattratti, che ci servono, gli unici, le uniche cose buone che stanno qua sono i contratti E' un mon... Cazzo, infatti Vabbè, Montiero Dai, possiamo sperare negli altri pacchetti Chi non conosce Montiero, il grande colombiano Montiero In effetti Che è più forte di Baffa Che ci rendiamo conto Possiamo salvare Luce a zero Dai Vendiamo lo zero crediti, perché noi possiamo Ok Abbiamo conto, Montiero è più forte di Baffa E certo Dai, ora troviamo Alaba Alaba Un argentone, non fa che Erzaco Oh, buono Una forma fisica Va bene Salva tutto Vado Vado Benissimo Vediamo Fariamo gli euro, prendo i maxi, ne prendiamo due ragazzi Qui si trovano due Hazard Due Hazard Sì Non uno Madonna, 15.000 Dai Dai Che cosa ce la facciamo? Dai 24 oggetti rari 7 Investiamo un bel po' di patrimonio Dai Hazard Hazard Oh, il del 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 Dai, dai Ci arrangiamo Dai, schwarzer Ancora gioca 55 Auriel Buono Contrattivo Grazie Fa bene Bene, corrigi La parere Bene Ok Benissimo Bene, ora facciamo Apriamo l'ultimo pacchetto Oro Premium E ora lo troviamo Hazard Dai Dai che ce la facciamo Dai Hazard Anche se non vuoi provare Noi siamo sfigati a buona Va bene Dai Dai, dai Carica Ok Dai Ti soldi sperperati Vai Non farci trovare Vai Vai Cazzo 81 81, dai Oh, la stemma del Chelsea Romulo Intrafanghinello Della Divente Dominique Manu Taidea Che non è neanche Non c'è neanche Comun Trafiffura Non giresivi Il fallo Va bene Giocatori morti Barelle E uno che sta firmando Un contratto Bello Il nero che sta firmando Vabbè Ok La merda E' brasi Veramente 15 anni A casa Capita Allora Allora Vediamo Che carica però Porca miseria Sto fanno Benissimo Porca miseria Vabbè dai Finiamo qua il video Per questo video è tutto Ricordi lasciare un mi piace Condividere il video Iscrivervi Noi ci rivediamo Noi ci rivediamo al prossimo video Bella ragazzi Bella ragazzi Bella ragazzi Noi ci rivediamo al prossimo video Noi ci rivediamo al prossimo video Noi ci rivediamo al prossimo video